ciao a tutti ragazzi oggi in questo speciale per i 100 iscritti vi mostrerò la mia faccia anche se non è un gran bel vedere questa è la mia faccia ma in questo video vi porterò l'unboxing di due pacchi che serviranno come upgrade per il mio canale ma prima volevo spiegarvi un attimo gli argomenti del mio canale come avrete visto fino ad ora ho portato solo dei montaggi di lego e qualcosina tipo l'unboxing dell'iphone eccetera eccetera ma questo canale appunto riguarderà le mie varie passioni ovvero l'agricoltura il montaggio dei lego appunto perché mi piace molto montarli motori quindi ci saranno dei video riguardanti le macchine però causa coronavirus non sono riuscito a portarvi dei video riguardanti i motori perché fino a qualche giorno fa eravamo obbligati a stare in casa e quindi oltre quello vi volevo spiegare che questo canale non riguarda appunto solo il lego ma anche le altre mie passioni e aggiungo anche tecnologia da collegarsi appunto con i vari unboxing eccetera eccetera quindi iniziamo prima da questo fatto allora innanzitutto devo dire che non volevo mostrare la mia faccia perché io sono una persona timida e mi vergogno quindi avevo un po di timore poi ci ho pensato ho detto ma sì ma chi se ne frega mostriamola lo stesso la faccia che tanto per far chivo faccio schifo ma va bene bene il primo è questo la maglietta con il logo del mio canale questa è la versione azzurra e questa è la versione dicevo la versione gialla ma mi sa che l'ho presa un po troppo grande come taglia gigante ma adesso proviamola subito questa è la versione gialla ma direi che ho sbagliato un po le taglie ok che io sono molto molto grosso però qui abbiamo un po esagerato e adesso vai con la seconda questa invece è la versione azzurrina e l'ho preso una taglia in meno perché non sapevo se mi andava bene o che cosa ma direi che questa va bene l'altra è un pochino grande e adesso passiamo al secondo pacco che è il secondo upgrade bene così non si capisce molto di cosa si tratta ma se ve lo metto qua forse qualcosa si capisce ecco cosa c'era dentro il pacco nuovo sfondo per il canale e fatemi sapere nei commenti se vi piace e se vi piace appunto vi lascio il link in descrizione così se ne volete comprare uno anche voi per il vostro canale di youtube se l'avete potete farlo l'ho comprato su amazon pagato circa 20 euro e questo è il risultato spero vi piaccia e sono arrivati anche questi due pacchi ma questi ve li porterò in un prossimo video ciao